parliamo del primo argomento che è l'ultimo diciamo quello più fresh quello di tekashi 6ix9ine penso che la maggior parte di voi sa chi sia è un trapper americano o meglio o meglio è un trapper di origini portoricane non vorrei dire cazzate che però sta in america ovviamente molto discusso perché comunque lo chiamano snitch che aveva snitchato diciamo i membri della sua gang o presunta gang a cui apparteneva vabbè che è successo nel senso contestualizziamolo al mondo bass music charlie slot che è lo speaker radiofonico di bbc radio one e bbc radio one extra il famosissimo format fire in the booth dove appunto i rapper arrivano si cimentano io ne ho visti un bel po ci sono passati un po tutti soprattutto grime artisti grime io non so se questo screen che lui ha postato è fake e l'ha fatto per creare hype per fare un po di cloud chasing spero di no perché altrimenti cioè veramente farebbe una figura di merda colossale io spero che non sia questo il caso perché comunque lui è un professionista lavora in radio se si mette a fare una cosa del genere però sinceramente a me ha fatto parecchio ridere ma l'ha postato sia su instagram sia su facebook allora io adesso lo vado a recuperare così ce lo leggiamo e capiamo di cosa si tratta charlie slot o bbc radio questo qui è la sua pagina facebook l'aveva postato fa stata questa roba guarda lì purple potion challenge è impazzito charlie slot vabbè fatemi vedere se trovo il post eccolo qui allora lui lui ha postato questa conversazione tra lui e 69 cioè in teoria 69 ma va bene la live ci sono situazioni strane lag no non credo allora lui ha postato questo screenshot di 69 quindi che presuntamente 69 abbia scritto nel suo dm di instagram bella zac ciao buona serata e parlando appunto con charlie slot ma già sta cosa mi può puzza perché 69 cioè a prescindere da tutta la merda che gli hanno tirato addosso hanno snitch eccetera comunque cioè è una trap star globale credo che sia forse il rapper più in hype di tutto il mondo ora come ora ha fatto il pezzo con nicky minaccia ha rotto tipo proprio youtube ha rotto il contatore di youtube ora ha fatto tipo centinaia di migliaia no che centinaia di migliaia centinaia di milioni di visualizzazioni vabbè c'è sto screen in cui 69 scrive io slot let's do a fire in the boot i've got some shit to talk on io spero che bella grande fuel io spero che spero che si possono dire le parolacce in inglese no perché sdrumox tipo l'hanno bannato da youtube america aveva detto una parola in inglese spero bene vabbè i've got some shit to talk on e fire in the boot appunto è il format quello che conduce charlie slot su bbc one extra ma lo fa a londra cioè a me questa è la cosa che mi puzza ma ti pare che 69 dall'inghilterra ha la necessità di prendere un aereo e volare a londra per farsi tipo 20 minuti di fire in the boot ma mi siamo appena stronzata e charlie slot risponde ah qui lo screen finisce qui e charlie slot risponde sorry fire in the boot is only for people that can rap holy shit cioè no scusami ma il fire in the boot è solo per le persone che sanno rappare e 69 risponde f you fat pussy vabbè pussy penso si può dire quindi l'ha mandato a fanculo dicendo anche che è grasso quindi anche body shaming body shaming su charlie slot va bene vabbè charlie slot è risaputo che è bello grassottello e che cosa risponde c'è risponde bless up splinter ok raga splinter sapete cos'è splinter splinter sarebbe il ratto il topo quello delle tartarughe ninja quindi ovviamente visto che snitch quindi si dice pure rat tipo ratto l'infame diciamo no gli ha risposto così e ovviamente lui ha scatenato il panico cioè guardate tipo i like cioè siamo proprio a livelli clamorosi 18.000 aspetta che forse zoom zoom un attimo 18.028 condivisioni raga cioè 5.000 cioè è una cosa assurda cioè lui si è creato un hype però clamoroso non riesco neanche a vedere il numero dei like vabbè e vabbè commenti secondo me non lo so mi sembra un po' un po' buttata così aspetta che levo qua vediamo qualche commento oh Charlie you don't vabbè tutta quanta la gente che lo big up ma il problema qual è è che comunque c'è sempre questa un po' questa rivalità questa diatriba Inghilterra US America no cioè si sa alla fine gli inglesi sono molto anglocentrici la musica vabbè che da una parte ti ho pure ragione perché l'inventiva e la creatività che hanno gli inglesi nel creare nuovi generi musicali cioè se li mangiano a colazione gli americani poi su punti di vista io apre tu hai rimesso la mia fede nell'umanità Charlie vabbè respect bro man said bless up splinter vabbè che giustamente fa ride perché è il ratto delle tartarughe ninja secondo me non lo so it's fake news attenzione attenzione questo screen questo mi manca non l'avevo letto 6ix9ine voleva fare un file in the boot freestyle ma è stato negato dall'host ovvero dallo speaker Charlie Charlie Slott cosa voi pensate riguardo questo no raga ma questo è veramente 6ix9ine che risponde non ci voglio credere no raga se è così ha fatto una figura di merda colossale no Charlie sei proprio sei proprio un faggiano Charlie Slott no se hai fatto una cosa del genere è veramente colossale guarda this is fake stop reporting fake news the world knows I have ghostwriter so why would I freestyle quindi questa è una fake news smettete di riportare fake news il mondo sa che io ho un ghostwriter quindi perché dovrei fare freestyle no questa è grevissima raga madonna mia se la verità ha fatto una figura di merda assurda cioè questo qua ha montato ha fatto una photoshopata per piarsi tipo 50.000 like così a buffo e farsi un po' di hype non ci voglio credere no vabbè sempre se non è un fake pure sto commento di di Tekashi no vabbè non ci voglio credere comunque vabbè a me puzzava sin dall'inizio sta cosa sinceramente non non ci ho dato molto credito la perla l'ho letta mi faceva ridere vi dico la verità però sinceramente mi sembra una cosa proprio forzata per creare hype e io fin da subito ma la cosa che mi ha meravigliato e soprattutto il fatto ma a te pare che quello c'ha i riflettori puntati cioè su tutto il mondo secondo te deve venire lì a pia l'aereo a farsi 12 ore di volo da Londra e vede a te c'ha gli slot che gli fai l'hosting al fire in the boot raga ma avete capito che numeri c'ha c'ha 6ix9ine no vabbè ma una curiosità voglio andare a vedere il video quello con la niki minace e quante visualizzazioni c'ha perché grazie